Qual è il ruolo di un country representative dell'ACC? Il ruolo del country representative è quello di supportare i membri dell'associazione. In Italia lo facciamo attraverso le attività che organizziamo sul territorio, a Milano, ma non solo a Milano, dove i nostri membri sono presenti. Sono attività che organizziamo sia in ambito specificamente legal, quindi approfondendo i legal topics del momento, gli argomenti di maggiore interesse, ma anche quelli che chiamiamo soft skills, quindi le capacità che un in-house counsel deve avere per gestire le sfide all'interno del mondo della propria azienda. Inoltre ci sono tutte le attività legate al networking, che è molto importante e che ha un valore molto rilevante per tutti i membri, quindi la possibilità di incontrarsi, di confrontarsi, di confrontarsi attraverso industrie diverse dalla propria. Perché è importante per gli in-house counsel incontrarsi una volta all'anno alla conferenza dell'ACC? La conferenza europea di ACC, quest'anno a Bruxelles, è un momento importante all'interno della vita dell'associazione, perché consente a tutti quanti di godere dell'aspetto internazionale dell'associazione. ACC è un'associazione profondamente internazionale, all'interno della quale partecipano membri da tutte le parti del mondo. Partecipare alla conferenza internazionale consente di incontrare i propri peers, che arrivano non solo da altre industrie, ma anche da altri paesi. È un'occasione di un confronto intenso, una full immersion attraverso gli argomenti legali che vengono presentati e la possibilità di conoscere molte più persone attraverso un network più ampio di quello del proprio paese di provenienza. Sulla base delle sfide future per la comunità legale in house europea, che cosa è in serbo l'ACC per i prossimi mesi e anni? L'ACC ha un solido piano, sia per l'Europa che per gli altri paesi in cui è presente, di continuare ad essere l'associazione di riferimento degli in house a livello internazionale. Attraverso questa visione, questa lente che va oltre il singolo paese, questo consente a un'associazione come ACC di offrire ai propri associati una visione profonda sulle tematiche legali attraverso i mercati nei quali opera. Quindi la sfida grande è quella di stare al passo con le questioni legali, consentire ai propri associati di avere una visione sempre chiara di quelli che sono i trend di mercato e avere la possibilità di anticipare le questioni legali che arriveranno prima o poi sulla propria scrivania. Questo per fare in modo che l'in house stia con ragione al tavolo del business e sia un business partner solido che possa portare una visione creativa, innovativa e sempre attuale al tavolo dove si vengono prese le decisioni. Durante la conferenza si è parlato dell'importanza della resilienza. Secondo lei qual è l'ingrediente segreto per rendere una squadra legale in house pronta a sfide e crisi inaspettate? Secondo me l'ingrediente segreto è senz'altro la fiducia. Un team nel quale c'è una fiducia condivisa, è un team che ha delle performance più alte, è un team che ha maggiore successo, è un team nel quale le persone sono contente di contribuire e partecipare. La fiducia è l'ingrediente fondamentale, è fondamentale che le persone all'interno della squadra si sentano coinvolte, partecipino attivamente a quello che è un obiettivo comune.